Nascondino maschi contro femmine, Ferre Rosa, io sono Blu, siamo carinissimi ma Ferre questo oggi stiamo andando oltre ogni livello di nascondino Te lo dico già proprio non ho un pari di dubbio, adesso capirai piano piano perché Allora prima di tutto devi scegliere, ti vuoi nascondere o vuoi cercare? Eh voglio cercare Quindi vuoi essere team nasconditori o team cercatori? Cercatori Ok allora io metto nasconditori, seleziona Ok ho fatto Iniziamo la partita e piano piano capirai Allora quindi mi devo nascondere Ok Allora Infatti io ho una scritta che dice aspetta che i nasconditori si nascondono, poi clicca il bottone per cercarli Ok Quindi Steph quando sei pronto tu mi devi avvertire e io ho un bottone da cliccare Perfetto Ok sto cercando un posto dove nascondermi come sempre la prima volta è un gran bel casino Assolutamente sì Hai trovato un bel posto Steph? Sento rumori strani quindi non so cosa stia succedendo Vero? Eh sì Poi siamo super veloci Steph, ci muoviamo super velocissimi È una cosa bellissima questa Steph non hai due ore e mezzo eh Ti prego fai veloce Vai fai andare Ok clicchiamo il bottone Ok sei in giro? Cavolo Allora Allora sono passati, sono partiti tre minuti li vedi alla destra Tu sei velocissima e adesso capite la super novità Già avete visto quanto è tutto super mega organizzato e figo Guardate adesso Che succede Steph io non ti vedo ovviamente Descrivi descrivi Niente Sono dietro di te Stai invisibile Steph Praticamente ho fatto inserire una funzione che chi si nasconde può osservare chi cerca e prendere in giro Quindi puoi fare le trollatine Quindi io sono rimasto nascosto esattamente dov'ero Ma adesso noi ci guardiamo la nostra cara Fere che deve impazzire e cercarci E Fere ti dico già in tre minuti non ce la farai Questa è una delle mappe più belle che io abbia mai visto Cioè gli animali sono colorati abbinati allo stile maschi contro femmine Cioè è bellissimo Sai che io in realtà non ho visto nulla ancora Davvero? Ero di fretta che dovevo nascondermi Ci sono tipo le mucche rose, le mucche celesti, polli rose, polli celesti Tutto così è bellissimo Steph Guarda che bella casetta Che c'è? Qui dietro sei no? Eh sì Qui dietro? Eh sì Allora tecnicamente tu sei un maschietto celeste Proprio con la skin celeste Esatto ma quella casa è fantastica Il piano di sopra è bellissimo Come il piano di sopra è bellissimo? Non ci posso andare Eh sicuramente c'è qualcosa da premere Fere Perché è pieno di queste cose super tricky Vedi? Ecco se me l'avessi detto non me le sarei manca accorta Sì ma non perdere tempo Sembra un blocco Non sei lì? No Fere altrimenti non ti avrei spiegato come sei lì Dicevo che quindi tu hai una skin tutta celeste Esatto quindi in mezzo al rosa non starò mai Avresti potuto sfruttare penso anzi che tu abbia sfruttato il fatto di essere celeste Quindi ti sei ficcato in mezzo a qualcosa di celeste Esatto che è un po' l'indizio che dà questa mappa Che è la cosa figa secondo me di questa mappa Ok Comunque no shadow fantastica Cioè 10 più No shadow Steph Io lo dichiaro oggi E qui in questo momento È il re delle mappe di Minecraft È bellissima Io non so cosa dire È davvero bellissima questa Non abbiamo mai fatto un nascondino così fighissimo Però mancano 50 secondi Lo so questa invece è una cosa terribile Allora Steph è enorme questa mappa Cioè anche se si corre è difficilissima da guardare tutte Parti a vederlo perché tanto non hai speranze ce lo so già No Mancano 40 secondi ma lo so già No Steph non mi puoi privare di me i 40 secondi Magari sono i 40 secondi in cui ti trovo Ok va bene Dai 30 secondi Non ne ho proprio idea dimmelo basta Eh esatto Allora dovresti trovare Non so neanche come arrivarci Ok quindi che dovrei trovare Steph È un posto Ok a posto Non mi ricordo dove Ci sono tanti posti qua Cioè almeno descrivi dove sei dentro una casa Dentro un edificio Era incredibile No sono dentro una montagna Questa Questo è l'ingresso di una montagna Vabbè ragazzi animali sono bellissimi Ma dove? Qua Ho perso accidenti Ecco la miniera Sì Ecco praticamente Adesso tanto finisce il tempo No Vabbè è finito il tempo Ma stavano succedendo cose strane Steph Allora 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 E adesso mettiti in nasconditore Ovviamente Io mi metto a cercare Vai lì prima di tutto E ti faccio vedere questa cosa Ok Ok Quindi Inizia partita Io vado in F6 E dovrei poter venire da te Ok Ok Quindi ci vediamo con la miniera Ok Perché ti devo far vedere con te Tricky Fede è alla sinistra Steph l'ho persa Ah ecco Corri tutta dritta Qui Ok Sinistra 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 Di più di più di più Da tutta l'altra parte Sì 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 Ok perfetto Ok Vediamo un pochettino Eri qui dentro Ce l'hai fatta Eri qui dentro Sì Eri qui dentro davvero Sì E che c'è qui sopra Boh non sono niente salito Ah qua c'è la parte ok Alta della montagna Ah non avresti potuto trovare Molto più facilmente Accidenti Ho rischiato tantissimo Cavolo c'ero arrivato alla fine Però Steph la mappa è davvero Ma com'è Com'è Ah esco da sopra Vai a nasconderti Ho smesso di guardarti Quindi Ok Quando Feri avrà fatto La cercherò Aspetta che qui A zero E Feri io ti dico Tutte le sfide maschi contro femmine Sia su Minecraft che su Fortnite Al momento li hai perse Quindi per favore Ma dai Cerca di combinare qualcosa di buono Oggi dico io Quindi almeno fai un bel nascondiglio Eeeh La vittoria sta anche nel non far aspettare la gente Ok l'ho fatto Ho fatto 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 Sì 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 Ok Abbastanza sicura No vabbè i polli Bellissimi Ma te l'ho detto che gli animali sono fantastici Steph È bellissimo È tutto abbinato Tutto perfetto Nei minimi dettagli È troppo bella Ciao mucca rosa Siete bellissime Le pecore blu Le pecore celesti Fantastico Raga a me questa casa Mi ha lasciato tanti sospetti Perché Dico io A che serve una casa chiusa Uhuh Posso andare a cercare Steph Oh no E la cosa positiva è che posso anche controllare da diverse angolature Se il mio nascondiglio è effettivamente efficace E vabbè E mi sembra che lo sia Ecco Steph Che scorraccia Ciao Fero ovunque tu sia Ciao Steph Aspetta ero dietro di te Ecco adesso sono dietro di te Quindi sai che ti sto salutando Ok Hai un uovo Steph nella schiena Giusto per dirsi Sì perché l'ho preso Tavola non ce l'ho più L'ho chiappato Ce l'avevi anche tu prima comunque Lo so E vabbè Bisogna avvisare Come quando il prezzemolo in mezzo ai denti Steph Si dicono queste robe Sento puzza di fere Eh Chissà dove sarò Chissà Steph Niente Steph Wow Che bella questa casa però Cosa ti è successo? Ho trovato un passaggio segreto Vabbè Comunque Steph Non facciamo neanche in tempo A scoprire tutti i segreti di questa mappa Dobbiamo rifarci sicuramente un altro nascondino Non lo so Qualche altra cosa Perché è davvero bellissima Assolutamente Fere Adesso non so se eri in quella casa su Accidentio Chi lo sa Steph Non ti posso dire niente Eh Facile così la vita Ma mi hai ritrovato almeno? Sì Ti vedo Sei sulla montagna che giro Ti vedo Ti vedo Io raga torno in questa casa Perché secondo me a Fere è piaciuta molto Dato che è rosa Ma sei fissata con sta casa Steph Guarda che stai perdendo un sacco di tempo Eh lo so Eh lo so Ma 5 secondi È finito il tempo? No Fere Un minuto e 3 secondi Scusami Perché non sta a leggere? È un timer diverso rispetto al solito Quindi ho visto solo i secondi Infatti è molto più bellino Lo so è bellissimo Cioè è tutto bellissimo Sto dicendo 20 volte Che è tutto bellissimo Staro diventando anche noiosa e ripetitiva Però è davvero fantastico Come sempre Non è vero Ok non è questa casa Steph hai perso tutto il tempo in quella casa Cioè ma sennò è un po' inutile Quindi è stato una cosa Perché ti è venuto in mente di guardare sotto le scale? Ho fatto Ho detto non ci penserò mai a guardare sotto le scale Allora stavo andando devo essere sincero Poi boh a un certo punto ho pensato ma aspetta ma qui c'è uno spazietto Ho detto no vabbè non c'è nulla Poi ho guardato e alla fine e alla fine Fere come sempre viene trovata dal caro Steph Cioè è una persona orribile Steph Era un ascondiglio perfetto Dimmi che non era perfetto Io ho guardato anche fuori Steph Anziché spiare te ho controllato Sarà visibile e non era visibile in nessun modo Perché sei entrato proprio lì sotto Comunque stavo anche per vincere Mancava pochissimo tempo Ai 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 Allora aspetta un attimo che pongo fine alla mia vita così non ho di nuovo fame Perfetto allora quindi devo tornare ad essere un nasconditore Sei pronta? Sì andiamo Ok Allora se non mi trovi Uh sto laggando tantissimo Ok eccomi Se non mi trovi questo round ho automaticamente vinto No Sì No Steph dobbiamo fare 15.000 round Contati Perché se no non scopriamo tutti i segreti della mappa Steph Eh lo so anche a me incuriosiscono Fere Anche a me incuriosiscono Allora raga Eh chissà dove va Io sento un sacco di rumori Quindi vuol dire che Steph sta armeggiando con qualche passaggio segreto Dici? Sì Oppure ci sono rumori in questa stanza non lo so In questa stanza di Minecraft È strano perché non c'è nulla Ci sono dei blocchi Lì da te dico Eh non credo facciano rumori Magari fanno rumori nascosti È molto strano Quindi Steph A che punto siamo? Non lo so sto cercando un nascondiglio Non fare qualcosa di troppo esagerato Steph che non trovo neanche in 40 ore della mia vita Ti prego Allora Mi sono spaccato le gambe perché volevo andare in un posto E non esisteva Ho sentito infatti Un rumore terribile Sì ho fatto un giù dalla montagna brutto Ho sentito Devo andare a cercare un altro nascondiglio un attimino Perché lì non era adatto alla fine Quindi diciamo che sto cercando qualcos'altro Diciamo che sei un po' lento Mettiamola così Steph Diciamo che non mi trovi neanche con 10 minuti Diciamo che non puoi metterci 8 ore Perché anche io se ci metto 8 ore Mi guardo tutta la mappa Cavolo Che ti faccio un nascondiglio della vita Steph Puoi partire Io cerco di muovermi per non fare Ok A posto Vado Addio Eh addio Davvero Allora vediamo un pochettino Non mi troverà mai La povera Fere Ok Sì C'è un bel passaggio segreto Più di 2 minuti Ancora per lei Allora controllo subito tutte le case Anche se poi hanno sicuramente passaggi segreti Assurdi E quindi probabilmente io non li vedrò lo stesso Che poi io posso vedere Se in ogni casa Ok Ci sono passaggi segreti Certo anche io lo potevo vedere ovviamente Quindi esempio è divertente Sapere che stai cercando un passaggio segreto Che non esiste Esatto Ok immaginavo Allora Vediamo se ti sei nascosto Nella stessa casa Però questo è lunghissimo Da controllare Ah Dici che ho iniziato a giocare In quel modo lì Sì che magari sei proprio sport Però abbiamo talmente tanti nascondigli Che non riserei mai lo stesso E allora non arrivado Basta Non perdo tempo Ti ho detto tu eh Sì la prometto Non ho bisogno di fare queste cose Per batterti Sono talmente più forte di te Nascondino Che non c'ho proprio bisogno Allora Sì Allora E stai chiuso C'è passaggio segreto No no c'è 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 Io l'ho scoperto quello Come c'è Sì sì Ma come dove Eh Eh Sto cliccando ovunque Eh non devi cliccare No 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 Lascio per Do passo attraverso Sì Ho visto qualcosa che non avrei dovuto vedere forse Eh Fede è tipo uno dei muri e è invisibile E non ci passo È quello Non ci passo È uno dei quattro E non ci passo È uno dei quattro Come fai a non trovarlo Guarda non ci passo E sarà l'ultimo Stef che cosa vuoi Quello 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 Vabbè Fede esplodi Vai vai via Tanto non sono lì Ok Stef non ci passavo Per un momento ci sono passata Proprio mi ha fatto malissimo Mi ha fatto perdere un sacco di vita E mi ha buttato fuori Che bella la zona alberelli Cioè stiamo ancora scoprendo parti della mappa Sì te l'ho detto È gigantesca Scoprire così tanto Dopo quello di tanto tempo È incredibile Allora Ferre Sono nella montagna blu Ancora Quella dove non c'è la casa Quindi ho cambiato montagna Ah ok Cioè ti piacciono proprio le montagne Stef Sì sono molto belle le montagne Ho notato Perché la gente come Ferre Non va a controllarle 15 secondi 15 secondi Non so neanche se ci arrivi Non ci arrivo Cioè per quanto io possa essere veloce Non ci posso arrivare Comunque questa montagna In posti super segreti Permette di entrare all'interno E sono nascosto dentro quella montagna Vabbè è troppo Sotto terra Sottoterra Abbastanza semplice Porca miseria Guarda Ferre guarda il mio schermo Allora io sono salito tutto su Mi sono arrampicato tutta la montagna Poi ho detto Cavolo Ma se sto qua fermo Vengo beccato Allora ho iniziato a scendere E a cercare un posto Da cui entrare Ok Scendi 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 E trovi questo buchino Da questo buchino La cascata che ho fatto Giù dalla montagna Facendo finta che non fosse proprio Ficua Che fossi andato dall'altra parte Quando ero già fermo Nascosto Queste sono le tattiche Mi sono buttato anche qua E mi sono messo qui Sì non ti avrei mai trovato Cioè anche trovando Quel passaggio segreto iniziale Non ti avrei mai trovato Lo sapevate Questo maschi contro femmine Non poteva essere vinto Dalla povera Ferre Che non è abbastanza forte Contro Steph Il grandissimo E il super mega Sei troppo cattivo Talentuoso Nasconditore E' stata comunque Una bella sfida Questa mappa raga E' incredibile Fateci sapere se vi è piaciuto Secondo me Un nascondino in questo stile E' davvero divertentissimo Quindi speriamo che sia piaciuto Anche a voi Qua sotto Qua sempre con voi Altri video Iscrivetevi al canale Campellino E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao